Babbo Natale! Ciao sono Fabio, ho 9 anni. Il nostro sogno è vedere la nostra squadra del cuore in Serie A. Caro Babbo Natale, mi chiamo Simone, ho 10 anni, tra poco 11 e sono un grande tifoso del Bari. Caro Babbo Natale, mi chiamo Camilla e ho 10 anni. Caro Babbo Natale Biancorosso, mi chiamo Leonardo, ho 9 anni e vivo a Novara. Ma non ti preoccupare, tifo Bari da sempre. Quest'anno sarà il mio primo Natale che festeggerò a Bari con mio papà. Caro Babbo Natale, mi chiamo Domenico, da quando ero nel pancione di mamma tifo Bari. Caro Babbo Natale Biancorosso, io sono Giuseppe, ho 12 anni. Caro Babbo Natale, sono Nicolò, un bambino di 9 anni, nato nelle Marche, ma tifosissimo del Bari. Forza Bari sempre. Ciao, io sono Gabriele e seguo il Bari da quando avevo 5 anni e mezzo. Pronto? Ciao, grande Nico! Marco, ascolta, sono Mattia, Maita. Sì? Ciao, ti volevo dire che giorno 26 entra in campo con noi, va bene? Sì. Sei contento? Sì. Grande, grande. Ci vediamo il 26 allora, dai, tantissimi auguri. Ciao. Salutami i follow russo. Va bene. Ciao. Ciao. Ciao Nico, ciao ciao. Salutami i follow russo, bellissimo. Francesco, lunedì 26, nella partita contro il Genova scenderà in campo con noi, va bene? Grazie mille. Grazie a te. Ma c'è Francesco lì con te? C'è. Sì, no, già, te lo metti in bagno. Aspetta, aspetta un secondo, vediamo se dovessi recuperare. Aspetta. Vedi un po'. Sì, aspetta. Bellissimo questa. Ciao. Ciao, ciao Francesco. Sono Mattia, Maita. Sono io. Io sono il fratello piccolo di Francesco. Ah, tu sei il fratello piccolo. E non c'è Francesco? Sta arrivando. Arriva? Aspettiamolo, dai. Sì, pronto? Ciao Francesco, sono Mattia, Maita. Scendere in campo con noi, va bene? Sì, sì. Va bene. Con chi parlo? Sono Leonardo Benedetti del Bari. Ti chiamo. Ah, salve. Salve, buonasera. Sono la mamma di Domenico. La mamma di Domenico. È con lei Domenico? Eh, purtroppo no, perché io sono lavoro, sono in uno studio dentistico. Va bene. Può avvisarlo lei che ha vinto il concorso della letterina e lo aspettiamo in campo lunedì? Certo. Senti, ma se ti do il numero di mio marito che con lui lo potete chiamare. Ah, ma chi ne ha dato il mio numero? Sì, no, ha chiamato anche sua moglie, però mi ha detto di passarle lei. Comunque, niente, le dica solo questo. E complimenti. Ciao, arrivederci. Pronto? Ciao Michele, sono Leonardo Benedetti del Bari. È con te, Leonardo? Mi dica, scusi. Pronto, sono Leonardo Benedetti del Bari. Grazie. Volevo avvisarti che tuo figlio Leonardo ha vinto il concorso per la letterina e lo aspetteremo in campo lunedì. Lunedì a scendere in campo con noi. Fantastico. È con te, Leonardo? Grazie mille. Non ho capito. È con te, Leonardo? No, è con la nonna. Ah, va bene. Allora, mi puoi dare il numero della nonna? Sì. Vorrei avvisarlo io di persona, se non è un problema. Allora, un attimo. C'è il signore del Bari, il calcio, che mi ha detto che Leonardo ha vinto il concorso della letterina, però vuole parlare con Leonardo. Gli puoi dare il numero della nonna? Sì. E a chi le devo passare? Leonardo. Sono io. Leonardo, hai vinto il concorso per la letterina. Ti aspettiamo lunedì in campo per scendere in campo con noi. Grazie. Sei felice? Sono felice. Bene, sono contento. Allora ci vediamo lunedì. Ho, ho, ho. Mi hanno lasciato da solo. Pronto, Loredana? Sì. Ciao, la sua figlia, Rachele, ha vinto il concorso. Ah, mi sarò felicissima. Lunedì ci andrà con noi. Sì. Io sono un giocatore, lunedì ci andrà con noi. È là con lei? Sì, gliela passo. Per favore. Con chi parlo? Damir Setter, giocatore. Sì. All'attaccante. Sì, è un calciatore del Bari. Pronto? Pronto. Rachele? Sì. Sono Damir Setter, attaccante, il colombiano. Il lunedì scenderà con noi, contro Genova. Sei pronta? Sì. Sei pronta? Perfetto. Va bene, allora ci vediamo, no? Ok. Ti aspettiamo tutti il 26 a San Nicola, Bari Genova. Ci vediamo là.